Questi ragazzi che hanno lanciato questa, non dico provocazione, ma insomma hanno fatto questa conferenza stampa per prendere distanza dalle sue dichiarazioni, questo era l'obiettivo della conferenza. Però rispondendo da adulti a questa piccola provocazione, che cosa gli si può dire e secondo lei che cosa si può mettere in piedi per i giovani ad Arezzo per offrire qualcosa di più? Allora, se anche una dichiarazione non condivisa porta dei ragazzi a fare politica in maniera consapevole, come in questo caso pur essendo poco d'accordo rispetto a quello che è stato detto, io credo che sia stato raggiunto l'obiettivo. Quindi il fatto che si contesti e lo si faccia all'età pertinente, questo lo trovo già un elemento di importanza. Contesto due cose, a 17 anni baby gang non è più possibile chiamarle, a 17 anni in Ucraina difendono la patria, questi sono ragazzotti che alcuni maggiorenni e altri minorenni, ma minorenni molto vicini alla maggior età, che di fatto picchiavano gli altri, quindi ora questo ha poco a che fare con il disagio, ha molto a che fare con la delinquenza. E il sistema carcerario italiano è un sistema che ha molti limiti, ma nella parte minorile è pensato per essere rieducante, quindi o noi andiamo contro tutto un sistema che potrebbe essere anche legittimo, oppure smettiamo di essere buonisti e parinisti, chi picchia un altro non è un disagiato, chi picchia un altro è uno che fa una cosa contro legge. E continua a dire punto, perché così mettiamo fine a un capitolo del libro. Invece, che ci sia una sorta di disagio dilagante rispetto a chi è stato serrato in casa, perché il lockdown ha picchiato duro allora, ma picchia più duro ora rispetto a quella che è la coda lunga di un disagio, questo nessuno lo nega, è un fatto vero, è un fatto nazionale, che non ha niente a che fare con chi picchia, ma ha molto a che fare con chi non riesce a ripartire nello studio, nella ricerca del lavoro, nella capacità di farsi strada nella vita, e qui c'è però un'azione dell'assessore Scapecchi insieme a me, come assessore alle politiche familiari, più che altro, di sostegno alle attività giovanili che vengono finanziate. Quindi io credo che va bene di sentire, è il sale della democrazia, dopodiché devi acconsentire a qualcosa per noi, quindi io invito coloro i quali hanno giustamente detto, erano d'accordo con me, a fare un passo avanti, cioè a dire che cosa pensano, partecipano ai bandi, fanno i progetti, l'assessore Scapecchi è una persona molto presente anche rispetto alla possibilità di aprire nuove progettualità, abbiamo investito più di mezzo milione di euro su progetti giovanili, abbiamo degli immobili dell'amministrazione liberi, e poi ci sono tante associazioni di volontariato. Io a vent'anni, più che la conferenza stampa, si fa il volontariato. Se poi un dissenso porta a un impegno, io ho raggiunto il mio obiettivo.